Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Partiamo con il primo punto dell'ordine del giorno. Approvazioni verbali nell'esercizio di salute. Do semplice lettura del titolo delle deliberazioni. Approvazione del punto della gestione per l'esercizio finanziario 2011. Approvazione e variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. Trasferimento delle competenze inerenti alla polizia locale all'Unione antichi voti di Valle Camonica e sessi dell'articolo 3 dello Stratuto dell'Unione ed approvazione a schema di convenzione. Esternalizzazione e servizi di accertamento e risursione coattiva ICI agli impagressi. Approvazione del piano di zona 2012-2014. Accordi di programma per la gestione del piano di zona della Stratuto della Valle Camonica Sedino per il piano 2012-2014. Se non mi sono osservazioni, visto che i verbali erano contenuti nella cartella del Consiglio, con regolazione, mi aspetto da che non lo so. Buone regolazioni favorevoli? Allora, 7 o 2 o 2. Astenuti, 2 o 4.